Grazie La canzone che soneremo come ultima reale, questa volta, si è una canzone che si chiama Enoch ed è tratta da uno split che abbiamo fatto nel 2017 con una band di Espinachite e è stato, tra l'altro, ristampato questo brano sull'ultima ristampa che è fatta del nostro primo disco Belfry ma che insomma è tutto un casino se volete ascoltare questa roba su un vinile ce l'abbiamo non sullo split ma sul primo disco al banchetto ce l'ho fatta un po' tipo una curata questo brano si chiama Enoch vi salutiamo tutti questa sera Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.